Buonasera a tutti con l'ascoltatore Meteo e bentrovati in questo nuovissimo video. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un bel like e attivare la campanellina per non perdervi il suo nuovissimo aggiornamento meteo. In questo video andremo a trattare del weekend di ferro agosto, proprio perché rimane la tendenza che avevamo già detto alcuni giorni fa. Settimana calda e weekend ancora più caldo al nord. Le temperature saranno veramente molto alte ma andremo subito ad andare a vedere per vedere nel dettaglio. Andiamo al weekend di ferro agosto, nel mentre vi invito anche ad andare nel nostro link in descrizione, per il nostro sito web e anche per il nostro canale facebook, vi invito ancora ad iscrivervi. Allora, il weekend di ferro agosto dovrebbe essere più caldo al nord, mentre al sud le temperature dovrebbero essere già iniziate a diminuire. Come possiamo vedere l'alta pressione di origine nord africana si stazionerà sul nostro paese e comunque su tutto il centro, sud Europa, portando giornate soleggiate e temperature molto roventi, massime che potrebbero ossiorare 40 gradi nelle zone più interne del centro nord e del nord. Il cielo sarà soleggiato, completamente libero da nubi, levato qualche possibile nelle prime ore del mattino. Andiamo subito a vedere infatti le precipitazioni, comunque per farvi vedere che non ci dovrebbero essere precipitazioni di rilievo. Infatti, come potete ben notare, tra il weekend del 14 e del 15 il cielo sarà totalmente soleggiato sulla nostra penisola. Temperature che dovrebbero arrivare a un massimo di 38 gradi, soprattutto sulle città di Torino, di Bologna, dove quali temperature? Attenzione, perché potrebbero anche raggiungere i 40 gradi nell'interno della Toscana e dell'Emilia Romagna. Temperature che dovrebbero essere complete tra i 30 e i 34 gradi su tutto il nord, zone più calve, ad esempio Firenze, ma ad esempio anche Siena, qua Montevarchi, quale temperature dovrebbero arrivare a una massima, anche possibile di 40 gradi. 40 gradi che saranno sicuramente superati in pieno sulla Sardegna e sull'interno della Sicilia. Temperature che saranno un poco più alte al nord. Attenzione invece sul lato del mare Adriatico, dove quali temperature dovrebbero raggiungere i 30 gradi di massima. Quindi un ferragosto sarà molto soleggiato e con bel tempo e ci potremo godere, una buona vacanza e vi auguro a tutti. Questo è tutto, un caro saluto dal vostro Meteo Italia e vi ricordo ancora di iscrivervi al canale, lasciare un bel like, attivare la campanellina per non perderevi sul nuovissimo aggiornamento meteo. Grazie a tutti.